Il segretario provinciale della CGL di Teramo, Pancrazio Cordone, ha formalmente richiesto un incontro con il prefetto e gli enti locali per discutere la situazione riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori nell'area della Chemipol, azienda ubicata nella zona industriale di Scerni di Pineto interessata da un vasto incendio avvenuto il giorno 30 settembre. L'obiettivo è quello di chiarire quali misure siano state adottate dagli organi competenti per tutelare la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti. In questi momenti di criticità la cosa più importante è la chiarezza, chiarezza che purtroppo non registriamo. Abbiamo chiesto al prefetto di farsi carico di convocare una riunione che metta intorno ad un tavolo il direttore generale della ASL dell'ARTA e i sindaci dei comuni di Pineto e di Roseto. Abbiamo la necessità di avere dei dati da fornire ai responsabili del servizio di prevenzione e prevenzione delle aziende che insistono su quel sito produttivo per fare in modo che possano adottare delle misure a tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori per le aziende che stanno lì e nonché di tutti i cittadini di quelle zone. Non possiamo sacrificare la salute delle lavoratrici e dei lavoratori ad una tutela delle attività economiche. riteniamo che in primis vada tutelata la salute delle lavoratrici e dei lavoratori. Ribadiamo abbiamo la necessità di avere elementi certi per adottare le misure di sicurezza necessaria a tutelare la salute. La richiesta nasce dall'urgenza di conoscere i risultati delle analisi condotte sulla salute pubblica e nei luoghi di lavoro oltre a comprendere come vengono determinate le cosiddette esigenze produttive menzionate in ordinanza che potrebbe comportare la sospensione dell'attività nel raggio di 500 metri. Il ping pong delle aziende che nell'immediato non sono state fatte evacuare poi sono state fatte evacuare per poi dire il giorno dopo che potevano rientrare al lavoro per poi dire che ecco abbiamo bisogno di chiarezza per adottare in primo luogo tutte le misure necessarie e per ridare la giusta tranquillità alle cittadine e cittadini di quei luoghi.